Ehi la ciurma! Ciao! Sono Mattia Tess e era un sacco di tempo che non facevo un vlog davvero mannaggia. Niente, piccolo vlog, giusto per due aggiornamenti, chiacchierare di un paio di cose, avevo pensato dai, faremo un bellissimo vlog per l'E3, uno per la Gamescom e tutto del mondo, dei nuovi giochi che escono e invece non ho detto nulla di nulla del mio pensare le cose. Niente, che dire, l'E3 è stata un po' una delusione, ma in realtà è vari anni che è un po' così, cioè nel senso che non dicono nulla. Io mi aspettavo qualcosa su Bannerlord e poi non hanno detto nulla, hanno fatto vedere un trailer, due cosette, basta, non una data, né un niente, boh, punto, sia un punto a capo. Adesso ho iniziato a fare dei post sul blog settimanali per mantenere alto l'hype, ma non sta succedendo niente, e vediamo Tails World, che cosa vorrà fare. Nel mentre noi intanto stiamo continuando la serie in live su Mountain Blade Viking Conquest, che sta andando molto bene, stiamo andando avanti bene con la trama e mi sta piacendo, perché ha una trama molto più forte ovviamente di quello che non è Warband, che non ha proprio trama, ha un modo di giocare un po' diverso e tra l'altro è anche più difficile, mi sta molto piacendo. Se vi capita fate un salto a vederla. Mentre invece, cosa che mi ha lasciato enormemente basito, ma un po' non lo so, è Beyond Good and Evil 2, che avevano detto qualche giorno prima no, non lo facciamo uscire, non ci sarà niente, boh, e poi poh, c'era. Trailer, una roba favolosa, che tipo, fatemelo giocare subito, voglio giocarlo. E invece, boh, nel senso che alla fine è un trailer in computer grafica da cui sappiamo tutto e niente. Cioè, boh, hanno sganciato un po' una bomba così per creare dell'hype e basta, e non sappiamo nulla, in pratica. Altre roba invece che aspettavo, di cui magari parleremo tra un attimo i Cuphead, che purtroppo non ho ancora avuto modo di giocare perché non mi è stato mandato da recensire e al momento le mie finanze sono un pochettino carenti, ho tantissima roba nel backlog da giocare, e quindi per ora ho rimandato. Vabbè, già ci siamo che finiamo con questo discorso. Ho visto due tipi di opinioni. La maggior parte sono best game del secolo nel mondo e poi c'è qualcuno, in realtà, di quelli che conosco io che l'hanno giocato solo videogames and darts, nella persona di Luca mi pare schiami, sì, che ha detto difficile inutilmente, cioè frustrante inutilmente. Tutti hanno detto che sarà mega difficile, ma poi tutti i run and gun erano abbastanza, beh, chi più chi meno, però comunque è un genere abbastanza complicato da sapere gestire e manovrare e bisogna avere davvero molta skill per starci dietro. Boh, nel senso che la maggioranza dice è bellissimo, non so da che parte schierarmi, ecco, fin intanto che non l'ho giocato non saprei tanto che cosa dire. A me sembra favoloso, ovviamente, dei gameplay, però non giocandolo con joystick in mano, non so che cosa dire di preciso. Invece Gamescom, boh, niente di particolare da segnalare, ecco. Ah, una cosa bella è Forza Horizon che è su PC, vabbè, quello non l'hanno detto la Gamescom, non l'hanno detto l'E3. Molto contento, in realtà ho ancora tantissima roba di guida da giocare, anzi, magari farò un video su Grid 2. Sto cercando di finire Grid 2, perché ho Grid 2 da secoli e mi blocco sempre su un evento a cronometro che quelli sono la mia... la mia Nemesis, non lo so, Coriscappa c'è il Nemesis, eh. E niente, e niente, questo è quanto. La programmazione sta ritornando abbastanza regolare sul canale, Sto cercando di fare almeno 3 video settimanali, cioè Shop Equip, che la serie non sta andando in modo splendido, però non mi dispiace, cioè a me piace giocarlo, quindi ogni tanto ci faccio qualche video sopra. Expeditions Conquistador, che anche qua non sta andando alla grande la serie, però a me piace davvero un sacco, un gioco strategico davvero favoloso, e X3 invece che sta andando, boh, mediamente, ecco, mi richiede tantissimo tempo, mannaggia X3, cioè tipo due ore per registrarlo, un'ora di editing, più, vabbè, tutto il tempo che ci mette per renderizzarlo, per un episodio di 15 minuti, è davvero... è tantissimo tempo, più l'upload. E a proposito di X3, ho cambiato per tutti i video le qualità di rendering, le impostazioni di rendering, quindi la qualità, la qualità è... dovrebbe essere estremamente migliorata, almeno io noto proprio anche a vista che a parità, no, di 1080p 60 frame, è una roba nettamente migliore come grafica, molto meno spixelata, soprattutto la webcam, eccetera, eccetera, e sono davvero estremamente contento di ciò, l'unica cosa mi richiede dei tempi di upload enormi, cioè di rendering anche abbastanza, ma di upload una roba incredibile, un tempo magari con due video di X3 riuscivo a metterli tutti e due la stessa notte a caricare, adesso c'è un video che ci mette almeno sei ore tipo a caricare, quindi... non se ne riesci più, però mi sembra che ne valga la pena per ora, cioè magari mi organizzo un pochettino meglio, ma cerco di caricare video di buona qualità come quelli che ci sono adesso, perché davvero sono... cioè anche a vista mi sembra una roba favolosa. Comunque questo l'avevo anche già comunicato sul canale Telegram, vi ricordo se per caso non foste iscritti sul canale Telegram, iscrivetevi, deve essere qua sotto in descrizione come sempre, la mando degli aggiornamenti, scrivo se ci sono i live, faccio delle votazioni per decidere che live fare, non fare, eccetera, eccetera, e quindi vi consiglio davvero di iscrivervi. C'è anche il canale Discord che però utilizziamo non tantissimo, però ho aggiunto anche il bot della musica di recente, quindi se voleste potete iscrivervi. Non mi ricordo il link qua sotto in descrizione, male che vada lo aggiungo o me lo ricordate voi, ecco. Ehm... Niente, volevo dire mille altre cose, adesso non mi ricordo più nulla. Magic dovrebbe uscire un nuovo aggiornamento a breve, quindi dovrebbe riprendere anche la serie di Magic, adesso vediamo e... boh, adesso vedrò magari di fare qualche video in più, qualche video un po' magari generico, visto che adesso inizierò un periodo forse in cui non riesco tanto a fare live, perché riprende l'anno scolastico, riprende tutto, e... però magari della roba tipo di tutorial di Black Desert Online, su cui mi sono abbastanza infognato in questo ultimo periodo, tanto che, cioè, boh, mi hanno mandato la chiave per recensirlo a luglio, e... adesso che siamo a ottobre è il secondo gioco che ho più giocato di sempre su Steam, sono quasi a 300 ore, tipo. E non lo lascio a FK, allora Black Desert, vabbè, poi farò un video recensione fatto per bene, adesso volevo provare tutte le parti, essendo un MMORPG c'è un fracco di roba da fare, quindi mi mancavano ancora le Node Wars e gli assedi da vedere per poter registrare un video recensione completo. Ah, e la parte Awakening, perché non sono arrivato ancora alla parte Awakening, comunque... Ehm... No, cosa sto dicendo? Che non lo lascio a FK, a Black Desert andrebbe lasciato a FK, cioè, se lasci il computer acceso con il personaggio a fare delle cose, guadagni un secco di soldi, vai avanti, fai punti, eccetera, eccetera, mentre io invece non lo lascio, perché mi urta sia di... che mi venga sfalsato il contatore ore di Steam, sia che, se per caso volessi, qualcuno nel gruppo famiglia del mio account Steam non può collegarsi e giocare perché il mio è in gioco nel mentre. E quindi è un po' una fregatura, perché c'è lo su Steam, non mi hanno mai dato purtroppo la chiave... perché esiste sia su Steam che non su Steam, e vabbè, questo poi ne parleremo, ne discorremo, poi quando sarà il momento di farne una recensione, ecco. E questo è quanto. Altro degno di nota? No, non lo so. Non lo so, sono pieno di giochi da giocare, ho poco tempo, ma dovrò lanciarmi e magari faccio qualche video. Magari ritorno anche un attimo su Rising Storm, Red Orchestra, di cui la live era andata abbastanza bene, ci sono state abbastanza visualizzazioni e... oh, proviamo magari a fare un video sparacchino così generico. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, piccolo aggiornamento, in realtà non l'ho detto tantissimo, ma era giusto per farmi vedere, farmi sentire, esisto ancora, ci tengo, sono successe delle cose, magari farò un video come l'anno scorso, poi quando finisce l'anno, per i miei best dell'anno, dei commenti su quale sarà... mannaggia sto cellulare! I giochi che vincono il Game of the Year, eccetera, eccetera, i BAFTA, boh, queste robe qua che avevo fatto anche l'anno scorso, e niente, quindi magari ci risentiremo a breve. Detto questo, io vi invito, come al solito, a lasciare dei mi piace, dei bel pollicioni in su, iscrivervi se per caso non lo avete già fatto, lasciare un commento qui per un saluto, un commento, un po', che sono sempre tanto, tanto, tanto graditi, e rispondo sempre il prima possibile, e niente, noi ci vediamo nel prossimo video di una delle serie che state seguendo, o uno dei video saltuari che salterà fuori, perché è saltuario, quindi salta, e ciao a tutti, buona giornata! Grazie a tutti! Grazie a tutti!